Buonasera, avete avuto un momento di attesa trepida, ma la tecnologia è riuscita a superare l'inghippo. Adesso possiamo incominciare. Come vedete, il numero dei partecipanti è ridotto. Non l'abbiamo fatto apposta, ma è sempre così. Quando si scala una montagna, chi arriva agli 8.000 metri, non è la grande massa. È un gruppo di eletti che scalando arriva fino a quelle altezze. Penso che l'argomento di questa sera abbia bisogno di ardimento e di tanta volontà di comprendere. Per questo il gruppo non è delle grandi occasioni, quello in cui partecipano e possono partecipare, devono partecipare tutti. È il gruppo invece dei grandi temi. E i grandi temi sono pochi ad affrontarli. Giovanni Pico della Mirandola e della Concordia è uno di questi. Perché è un personaggio interessantissimo. 31 anni di vita, una morte finita con l'arsenico all'improvviso. Perché l'invidia umana ha tante forme di manifestarsi. Anche quella dell'intelligenza può diventare una via che crea invidia. Sentiremo però due esperti che ci parleranno di Pico della Mirandola e ci faranno capire questo personaggio, il professor Pietro Secchi, la professoressa Giovanna Murano, come sempre moderati da dottor Armando Torno. Sono certo che uscirete da questo incontro affascinati da questa figura. Buona serata. grazie Monsignor Borgonovo, grazie a voi per essere qua stasera in questo incontro dedicato a Pico della Mirandola. Come sapete voi che frequentate la scuola della cattedrale, noi partiamo dai libri, non presentiamo i libri. E l'occasione è data da un libro della professoressa Murano, Giovanna Murano, che è stata ricordata, che studia la collezione libraria Pico Grimani. Poi capiremo perché c'è questo nome di un cardinale veneziano che si presentò a Pico a suo tempo, in incognito, eccetera, eccetera. Ma questo è un volume che ora è apparso nella raccolta del Centro Nazionale e Internazionale di Cultura, Giovanni Pico della Mirandola, e il ventunesimo volume degli studi picchiani. Ed è un primo, diciamo, contributo per la ricostruzione della biblioteca. Ricordo che la professoressa Murano, oltre questo libro, ha condotto varie ricerche, ha pubblicato anche nella collezione della Vaticana un suo libro, e soprattutto ricordo anche che le sue ricerche sono state finanziate dall'Accademia di Finlandia. In Finlandia si occupano più di noi di Pico della Mirandola, capita. Abbiamo poi il professore Pietro Secchi, che io ricordo con affetto perché si è laureato con Tullio Gregory, e tutti abbiamo conosciuto Tullio Gregory nella presentazione di Fozio, forse qualcuno si ricorderà, che ha pubblicato non per Olski, ma per le edizioni di storia e letteratura, questo studio tra le fonti di Pico, Strumenti per la Concordia. Poi vedremo la sua ricostruzione, come si è svolta. Devo dire che questa sera abbiamo due editori, l'edizione di storia e letteratura e la Olski editrice, qui rappresentata da Giorgia Corbo, tra l'altro, che ci ha anche fotografato, che fanno onore all'editoria italiana, pubblicano libri veramente di valore, libri su cui vale la pena riflettere. Diciamo pure che questo incontro è il penultimo della Scuola della Cattedrale di quest'anno, l'ultimo sarà il 26 giugno. Il 26 giugno avremo un appuntamento anche con un collegamento da Oxford, perché presenteremo, partiremo dalla traduzione di un'opera vastissima, in quattro volumi, la rivelazione di Hermet Trismegisto e la rivelazione di Hermet Trismegisto della Bate Festugère e vedremo anche dove ci porterà quella presentazione. Questa sera però siamo con Pico della Mirandola. Monsignore ha anticipato qualche notizia, ma tutti ricordiamo Pico della Mirandola, chi per la memoria, chi per la capacità straordinaria di sintesi che magari gli è stata ricordata a scuola, chi magari l'ha trovato nel libro di storia della filosofia, chi l'ha trovato in altre avventure, magari legato a Lorenzo il Magnifico, a Savonarola, ad altri, chissà, insomma. Pico della Mirandola, come dice la professoressa Murano, qualcuno se lo ricorda perché scopre con Pico de Paperis un personaggio di Topolino che è stato copiato da Pico della Mirandola. Del resto un personaggio che sfugge a tutte le definizioni, sfugge a tutte le situazioni e che questa sera vedremo di ripensare, di rivedere. Io ricordo che questo incontro molto semplicemente è trasmesso direttamente da Duomo Milano TV, diciamo che c'è una diretta, poi tra qualche giorno sarà sul portale e poi sarà sui social, ovviamente su YouTube e su altro, come tutti gli incontri della scuola della cattedrale. A questo punto il moderatore deve scomparire, cara professoressa Murano, e quindi lascio a voi e alle vostre figure l'illustrazione di questo personaggio, però le pongo una domanda, le pongo una domanda e la domanda è questa, perché si è messa a studiare Pico della Mirandola, cioè non c'è materia più vasta, anche se quest'uomo ha vissuto 31 anni e qualche mese, è sterminato, è un po' come cercare di prosciugare l'Oceano Pacifico con un secchiello, mi sembra che sia così. Prego. Perché, ho cominciato con Pico, perché Pico è una sfida, una sfida straordinaria, io sono una paleografa, non sono una filosofa o storica della filosofia, e Pico è una doppia sfida, perché ebbe, in soli 31 anni, riuscì a riunire la più grande biblioteca di mano ad un privato, oltre 1200 volumi, che sembrano pochi adesso, ma in realtà condensavano il sapere dell'epoca. E una doppia sfida perché questa biblioteca è stata considerata per secoli perduta. Questo è stato ripetuto a partire dal 1687, quando è andata a fuoco un deposito d'armi a Venezia, poi vi dirò anche per quale motivo questo deposito d'armi era importante, e si è continuato a ripetere fino agli inizi del secolo scorso. Agli inizi del secolo scorso due grandi studiosi, Giovanni Mercati e Theodor Freudenberg, hanno detto no, non è così, la biblioteca di Pico è in parte sopravvissuta, ma nonostante questo si è continuato a ripetere che non era rimasto niente. Quindi si è giudicato Pico, si è commentato Pico, si è studiato Pico in base a ciò che aveva scritto e non in base, basandoci sui libri che gli sono appartenuti. Ho cominciato grazie anche a questo progetto finanziato dall'Accademia finlandese e al momento ne ho recuperati molti. Quanti? Non saprei dirlo perché Pico non amava indicare ex libris, non scriveva questo libro e di Pico. I libri di Pico si riconoscono perché si ricostruisce la storia del singolo codice o del singolo incunabolo o perché era un uomo che leggeva con la penna in mano. La definizione non è mia, è di Giovanni Mercati, leggendo annotava. Questo che vedete, l'immagine che vedete, è un macrobio, un macrobio in pergamena. È l'edizio princeps di macrobio. Già alcuni anni fa una studiosa di storia dell'arte lo aveva assegnato alla famiglia Pico perché c'è uno stemma, un'immagine inferiore. Questo stemma è sormontato da un cappello ecclesiastico. Forse non si vede bene. Ebbene Pico a 11 anni fu nominato protonotaio apostolico e quindi con ogni probabilità ricevette questo codice come dono dalla madre intorno ai 10-11 anni. Perché è interessante questo incunabolo? Perché la madre vi fece seguire innanzitutto un ritratto di famiglia. Il maestro non ha un nome, questo miniatore. Lo chiamano il maestro di Pico. Un ritratto di famiglia. Sulla destra fece eseguire il ritratto della madre, Giulia Boiardo, zia di Matteo Boiardo. Nel margine interno, la figura fece ripingere la figura del padre, è in alto un bambino. Un bambino con al collo una collana di collallo. Un talismano. Un talismano che dopo la morte lo ricorderà un carmelitano, Battista Mantovani. Qualcosa che Pico possedeva, aveva realmente. Ebbene, è importante perché è un ritratto di famiglia con questi straordinari cammei, ma soprattutto perché ci restituisce la mano di Pico. La mano di Pico bambino. E qui vediamo che Pico non è soltanto no, è il greco, ma è anche in grado di correggere il greco. Qui vediamo un testo del greco, un testo pseudoplatonico, un distico pseudoplatonico, e lui interviene sia su rasura, sia aggiungendo in margine un gar che non c'era. Come ha potuto correggerlo? Non lo sappiamo. Probabilmente è andato a Mantovani, ha fatto un controllo con altri testi che si trovavano a Mantovani, in ogni caso lui ha corretto con questa mano che sapevamo esistesse. Ne parlava il nipote nella vita che ha scritto che Pico aveva da giovane una mano bellissima. E sopra ancora vediamo invece un suo intervento in latino, anche qui con questa mano giovane bellissima. Questa mano bellissima di cui sapevamo l'esistenza non era ancora mai emersa in nessuno dei suoi codici, nessuno dei suoi incunaboli, perché la mano che conosciamo di Pico, ed è questa la seconda sfida per un paleografo, è questa. Quella che vedete nei margini. Questa è la mano illeggibile di Pico. che fosse illeggibile anche per i suoi contemporanei, lo dichiarano Marsilio Ficinio, Lede del Medico, i suoi collaboratori. Questo è uno dei codici che ho recuperato. È importante perché è il tafut al tafut di Averroè, ovvero l'incoerenza dell'incoerenza dei filosofi, ed è una disputa tra Averroè e Al-Ghazali. Non è stato difficile recuperare il manoscritto, è stato difficile capire cosa andare a cercare. Questo perché negli inventari di Pico quest'opera è indicata come destruccio, destruccionum, quindi in arabo tafut al tafut, in latino abbiamo destruccio, destruccionum, in italiano l'incoerenza dell'incoerenza. Ebbene, di questo testo ne esistono soltanto tre copie, quella in Vaticano che è il modello utilizzato per questo manoscritto, e un secondo manoscritto che era appartenuto a Bessarione. Qui Pico sta preparando le conclusioni, le novecento conclusioni, che come sapete lo hanno portato poi alla condanna per inodore di eresia, eccetera. E la sua mano è frenetica, illeggibile. Lo legge probabilmente non da solo, lo legge con uno dei maestri di ebraico, Elia del medico, e lo commenta. Nell'edizione che conoscevamo l'opera non è completa. Nel manoscritto di Pico, così come nel manoscritto di Bessarione, l'opera è completa. Quindi aveva sezioni di questo testo di Averroè che altri letterati non conoscevano e che conosceranno soltanto alla fine del Cinquecento. Lo stesso, la Princeps del 97, è ugualmente un'edizione parziale di questo testo di Averroè. Ebbene, Pico l'ha posseduta, Pico l'ha letta e come ha fatto ad averla? Ha incaricato un uomo di Lorenzo, Luigi Lotti. È andato questo Luigi Lotti in Vaticano, lo ha trovato il testo e da lì è stata fatta la copia, è stata tratta la copia. Quindi questa è la mano del tempo delle conclusioni. Questo invece è l'ottoboniano latino 607. I primi maestri dei baraico di Pico sono stati Elia del Medico e Mitridate. E con entrambi cerca di penetrare nei primi testi ebraici. In questo caso si tratta del testo di Giobbe. Ne fa curare una traduzione e con il commento, la legge con il commento. Il commento non di un autore latino ma di un celebre autore ebraico, Gersonide. E lì traduce. Anche qui è stato fatto un'edizione ma non sono stati fatte l'edizione delle glosse e tutto ciò che vedete della mano di Pico. Quindi al centro c'è la mano di un suo collaboratore, Tommaso Frignano, e intorno, tutto intorno, c'è la traduzione che gli è stata dettata da Mitridate e il commento che gli è stato tradotto da Mitridate. Anche questo al tempo della preparazione delle conclusioni e siamo intorno al 1485-1886. Le conclusioni verranno poi pubblicate alla fine dell'86. Pico organizza questo straordinario convegno che doveva tenersi a Roma e dove potevano partecipare letterati da tutta Europa. Alla fine del volumetto in cui presenta le conclusioni, allega anche un invito, dicendo che chi non può partecipare, chi non ha i mezzi per giungere a Roma, sarà lui che pagherà per il viaggio, si occuperà lui del viaggio. Il convegno, questo grande straordinario convegno dove si dovevano discutere le 900 tesi, non si è mai tenuto. Ma addirittura 13 tesi vengono considerate in odore di eresia. Pico cerca di difendersi, scrive l'apologia, però le cose si mettono male. È condannato, è costretto a fuggire. Fugge in Francia e viene catturato, viene chiuso nella prigione di Vincent e poi, grazie, lui è un principe, lui ha rapporti con tutte le famiglie nobili, gli estensi, intervengono lo stesso imperatore, interviene soprattutto Lorenzo il Magnifico e riesce a rientrare in Italia. Qui non è più lo stesso uomo. si è spento completamente l'entusiasmo di Pico e addirittura non viene ospitato a Firenze, ma Lorenzo fa in modo che venga rifugiato nelle colline fiorentine, in una badia fiesolana, a Fiesole. E qui, per cercare di tirar su il morale a Pico, Lorenzo il Magnifico gli consiglia di studiare la Bibbia, cominciare a studiare i Salmi. Aveva già iniziato, l'abbiamo visto, con due maestri, Elie del Medico e Mitridate, a studiare l'ebraico, ma qui è solo. Nella badia fiorentina è solo e qui approfondisce, prende padronanza dell'ebraico e si dedica ai testi, ritorna su testi che aveva già utilizzato per le conclusioni, in particolare questo. Questo è il testo più famoso della filologia ebraica, sono la guida dei perplessi di Maimonide. Lui ha il testo ebraico, ha già un testo latino che gli è stato copiato da un manoscritto che si conserva a Bologna, ma si fa riscrivere nuovamente quest'opera, la traduzione latina, e su questa traduzione latina lui interviene. Qui ritorna la sua mano posata, la sua mano che riflette, che torna sul testo e cerca di comprendere questo che è il caposaldo della filosofia ebraica e, come vedete, corregge. Quindi da una parte il testo ebraico e qui corregge. Le correzioni sono in interlinea, le correzioni sono marginali e la mano non è più quella che abbiamo visto nell'86, qui siamo nell'88-89. Il suo approccio al testo ebraico non c'è ancora però la mano ebraica di Picco. Qui invece c'è. Lorenzo l'ha invitato a studiare i salmi e lui approfondisce il testo biblico e si fa trascrivere su dei grandi codici in folio il testo della vulgata. Su questi codici, però, hanno una particolarità, hanno margini amplissimi che accolgono non soltanto il testo della vulgata, ma anche tutte le varianti che lui riesce a trovare rispetto alla versione dei 70 e usando tra l'altro l'omicron che usiamo ancora adesso nelle varianti negli studi biblici, così come i termini ebraici che lui trova nella sua straordinaria collezione. Picco, pur non essendo ebreo, aveva la più grande collezione di libri ebraici del suo tempo. 150 volumi. Ci fermiamo qui provvisoriamente. Perfetto. 150 volumi ebraici, però 150 volumi densissimi. Densissimi. Però lei ci ha portato un po' in questo universo dove ci si perde. Le conclusioni, 900 tesi che pretendevano o cercavano di riassumere tutto il sapere del tempo, insomma. Ci ha fatto vedere Picco che a 11 anni faceva correzioni su Macrobio, quindi interveniva direttamente su lingue antiche. Ci ha fatto vedere Picco che studia l'ebraico, ci ha fatto vedere Picco che Elia del Medico, il suo maestro, gli insegna, fa eccetera così. Adesso io direi che possiamo passare al professor Secchi e chiedergli, lui che ha studiato dal punto di vista filosofico Picco, ecco, qual è il grande progetto culturale di Picco? Perché c'è da perdersi? Molte volte noi, passando nelle storie della filosofia, quello che nel liceo, troviamo qualche riga su Picco, magari una pagina, però qui meriterebbe di avere dei capitoli. Allora, lei ci può dare una mano? Sì, proviamo. Innanzitutto, grazie davvero per questo invito, sono onorato di parlare in un luogo così importante per la nazione italiana e per la civiltà europea. Grazie, era doveroso. Allora, il progetto di Picco è visionario, nel senso che Picco, come dire, eredita, assimila dal suo grande amico Angelo Poliziano, l'amore per qualsiasi fonte, del mondo antico innanzitutto, ma non soltanto. Quindi un amore viscerale, incontenibile per la lettura, questo innanzitutto. E quindi, come dire, l'illegittimità di istituire una gerarchia fra scuole filosofiche. Poliziano era già famoso perché aveva dato scandalo nei corsi che teneva allo studium di Firenze, occupandosi di autori della tarda latinità, come Stazio, come Quintiliano, che erano considerati degli autori stilisticamente, come dire, degenerati, inferiori rispetto al latino Aureo di Cicerone. E Poliziano invece, come dire, ne reclamava l'assoluta centralità. E questo, come dire, amore per il pluralismo delle autorità è trasmesso immediatamente al giovanissimo Picco. Picco ha innanzitutto questa grande formazione, questo grande amore iniziale che è veramente, come dire, senza sosta. Tra l'85 e l'86, se vediamo un po' lì nella cronologia, i testi che legge e le lingue che apprende, rappresenta qualcosa di impressionante. E l'idea qual è? Il panorama contemporaneo di Picco qual è? È una rivalità fra scuole filosofiche. Questo è interessante non solo dal punto di vista, come dire, delle teorie filosofiche, ma anche della celebrità, della fama, della gloria. Perché questi umanisti, questi uomini del 400, erano bensì innamorati dei testi, del mondo antico, dell'idea di una rigenerazione, di una palingenesi, della renovazione, come la chiamavano tutti al suo tempo, però erano anche grandi rivali. E la storia del 400 è una storia di grandi polemiche. Balla, Poliziano stesso, Bracciolini, per fare i nomi più importanti, sono autori di controversie durissime. Allora, quello che Picco vede mancare è un atteggiamento di ricerca onesta del vero. Una ricerca onesta del vero capisce, come dice Picco stesso appunto nell'Orazio de Pace, che poi appunto è il titolo originario, non è Orazio de Omnis Dignitate, che non c'è nulla di eccellente che non sia stato detto da una qualche scuola filosofica e che invece non sia sfuggito alle altre. E che quindi l'unico modo per non perdere l'eccellenza di ciascuna scuola filosofica è di leggerle tutte. Allora, Picco innanzitutto si rende conto di questo. Per poter affermare che tutte le scuole hanno la stessa dignità, io devo risolvere la prima controversa, la madre di tutte le controversie, quella controversa da cui si dipanano tutte le alternative, poi anche mortali e drammatiche, cioè platonici e aristotelici. Quindi il grande sogno di Picco, appunto questa Pax filosofica, ha come presupposto la concordia fra Platone ed Aristotele. Allora questo è il grande progetto culturale di Picco. Picco mettendo insieme Platone e Aristotele e dicendo che sostanzialmente ogni interpretazione che tende a farle divaricare è un'interpretazione che si ferma, come dire, all'espressione superficiale delle parole, ma non coglie il nucleo più profondo. Ecco, se si riesce ad affermare questo, e Picco ci proverà fino agli ultimi anni di vita, quindi non si parla di palinodia in Picco, perché poi il De Entet 1 è ben successivo al suo ritorno a Firenze. Quindi Picco, seppur, come dice appunto Garen, non conobbe mai il tempo dei gigli, il tempo della pace interiore, non abbandona mai questo progetto. Seppur, come dire, è sofferente, seppur è soffocato, seppur emerge qui e lì, attraverso anche citazioni molto dure, per esempio, relativa all'inferno, nel commento ai salmi, per dire si parla dell'inferno, si parla del lago di Zolfo, no? E poi poche righe dopo si parla di origine e dell'apocatastrasi, della salvezza universale, della concordia delle dottrine. Quindi, seppur nella sofferenza Picco non riesce a soffocare questo suo anelito, che certamente è attenuato, che certamente, come ha detto Giovanna, non ha più l'entusiasmo del giovane convinto di sconfiggere chiunque avesse una visione limitata, però certamente... però riemerge, però Picco non si arrende fino alla fine e lo testimoniano, questo l'ha scritto proprio Giovanna, le ultime accessioni della sua biblioteca, che sono ancora delle divali classici, a Ippocrate, a Galeno, ai commentari di questi autori. Ecco, quindi vado più velocemente. Riuscendo a superare questa, come dire, dicotomia mortale fra Platone e Aristotele, tutte le altre controversie filosofiche avranno fine, perché in fondo ogni differenza di schieramento filosofico si riduce a porre l'uno prima dell'essere, come avrebbe fatto Platone, come fa anche Marsilio Ficino, che Picco attacca in modo molto violento e, se vogliamo, anche molto impertinente, oppure porre l'uno e l'essere sullo stesso livello, come fa Aristotele. Questo è il grande tema del de ente et uno. Picco dice, con una frase bellissima, no? Si res spectes, ni il pugnansius. Se guardi alle parole non c'è nulla come dire che confliggi di più. Si verba spectes, scusate, non so che ho detto. Si verba spectes, ni il pugnansius. Se guardi alle parole non c'è nulla di più divergente, di più conflittuale. Si res, ni il concordius. Se guardi alle parole non c'è nulla di più concordi. Questa è la grande speranza di vivo. Messi d'accordo Platone e Aristotele, la pax filosofica si può portare anche nella filosofia islamica, perché diventerà la concordia tra Vicenna ed Averroè. Purtroppo il tempo dei Gigli non venne per Picco e non è venuto neanche per la civiltà europea, che di lì a poco conoscerà le guerre di religione. Non so se ho ancora minuti o mi vuole, magari lei vuole chiedermi. Ancora qualche minuto e visto che ha accennato il tema dell'arabo e sappiamo che tra le lingue che Picco ha imparato c'è anche l'arabo, ci può un po' guidare lì verso queste conoscenze. Allora il tema delle lingue dell'arabo e l'ebraico, no? Allora certamente questa non è una novità assoluta di Picco della Miranda, nel senso che il grande rinascimento filosofico europeo, prima di verificarsi, diciamo come tutti i manuali scolastici ci dicono, nella seconda metà del 300 con Pedrarca, si verifica nella Spagna araba della scuola di Toledo, no? Dove c'è uno straordinario crogiolo di cultura ebraica, cultura cristiana e cultura islamica che dialogano e traducono reciprocamente tutti i testi più importanti. Quindi non è una novità, in realtà l'interesse per queste culture, per questi testi, per queste lingue. Si pensi che il concilio ecumenico di Vienne del 1311 auspica la fondazione e la creazione in tutte le università europee di cattedrica ebraico, per esempio, no? Però se le università, come dire, diffondono questa conoscenza, tutto sommato per darne in qualche modo una versione ufficiale, quindi poterla controllare, perché poi i programmi delle università medievali sono decisi dal cancelliere che è nominato dal vescovo, quindi il Papa certamente promuove la cultura e al tempo stesso però, come dire, la indirizza, questa è la doppia operazione. Certamente, quindi non è una novità lo studio delle lingue in quanto tali, la novità è il modo in cui Pico affronta questo studio. L'arabo, ecco, in particolar modo, le mi chiede, viene utilizzato perché Pico è particolarmente interessato all'esegesi della filosofia aristotelica. Questo è un altro, se vogliamo, non paradosso, perché è noto a tutti gli studiosi, se li andiamo a vedere appunto la cronologia nel bienio 80-81, 81-82, Pico studia l'Università di Padova, che è una nota roccaforte aristotelica, però la cosa un po' divertente, se vogliamo, è che tutti i manuali parlano di platonismo del Rinascimento, no? Ficino e Pico. In realtà, se andiamo a vedere la loro storia, entrambi hanno avuto come primi maestri degli aristotelici e quindi il più grande esegeta di Aristotele, per lo meno per i problemi filosofici che ha posto, primo fra tutti quella famigerata, lo dico, no? In tutti i sensi, dottrina dell'unità dell'intelletto agente, è vero, è. E lo stesso Pico era appunto accreditato per essere di fatto l'unico filosofo del Quattrocento che era in grado di esporre in modo davvero compiuto la posizione di Sigere di Brabante, che era il più famoso fra gli averoisti latini. Quindi diciamo che secondo me l'interesse di Pico per l'arabo, prima ancora che per il Corano in quanto tale, è l'interesse per le esigesi di Aristotele, perché le esigesi di Aristotele è quello che deve condurlo poi alla Concordia e un Platone. Perfetto. Quindi insegue i grandi maestri dell'antichità attraverso una serie di studi di lingue e attraverso dei confronti. Ecco, ma torniamo un po' alla biblioteca lì, professoressa Morano, qui c'è un problema, lei ha stampato, ha condotto questo volume, ha scritto questo volume, ma è un po' la punta dell'ice per questa, mi pare, perché lì c'è un cardinale che si presenta a Pico, non nelle vesti di cardinale, con un segretario, sembra quasi un film, non so, di spie, di una cosa alla 007, però sono cose realmente accadute. E poi questo cardinale salva la sua biblioteca. Che cosa succede? E poi, io volevo anche chiederle, in quella biblioteca, lei ha detto, ci sono 1200 libri, non dimentichiamo che in quella di Don Ferrante ce ne sono 300. Certo, magari in un volume c'è tutto Seneca, oppure, che so io, c'è tutto il Petrarca Latino, per carità. Ma in uno solo ce n'è una nottanta. Ecco, però voglio dire, c'è anche un fatto che Pico lascia una lezione che poi vi era raccolta, se non sbaglio, da Erasmo da Rotterdam. Allora, ci può un po' condurre verso questa strada? Sì, molto rapidamente. L'incontro sotto mentite spoglie è avvenuto tra Pico della Mirandola, principe di Concordia, eccetera, eccetera, e Domenico Grimani, cardinale, è avvenuto a Firenze nel 1491. Il cardinale non si è presentato in quanto tale, ma appunto sotto mentite spoglie. Questo lo sappiamo perché c'è una lettera, una lettera, si è presentato insieme al suo segretario Antonio Pizzamano. Solo tre anni più tardi Pico muore e lascia un testamento molto preciso. La sua biblioteca deve essere venduta a un ente ecclesiastico o, eventualmente, se proprio non si trova a quest'ente ecclesiastico, per il doppio del prezzo può essere venduta al nipote. Non si trova l'accordo, non si trova l'ente che può acquistare la biblioteca di Pico. Nel frattempo il nipote è entrato in San Marco, ha preso dalle casse, ben 37 casse, più un forziere. Questa era l'entità della biblioteca di Pico. Ha preso il materiale più prezioso, ha preso gli autografi che in parte poi pubblicherà e quello che rimane lo acquista il cardinale incontrato nel 91, vendendo, racconta a Marino Sanudo, persino l'argenteria di casa per poter acquistare questa straordinaria biblioteca. Quindi Domenico Grimani acquista la biblioteca e la porta nella sua sede, era il cardinale di San Marco e quindi la porta nell'attuale Palazzo Venezia, a Roma. E qui la vedono alcuni grandi, tra cui Erasmo da Rotterdam, che vede proprio quel manoscritto, uno di quei manoscritti, esatto, uno di questi manoscritti, erano diversi allora, c'erano, ecco, questo qui. E da lì trarrà poi l'ispirazione per la... La filologia biblica trarrà ispirazione Erasmo. Domenico Grimani muore nel 1523 e lascia la sua biblioteca ad un convento veneziano, Sant'Antonio di Castello. Nel 1687, in occasione di una guerra, i magazzini di questo convento vengono trasformati in dei luoghi di produzione di fuochi d'artificio. Esplode un fortissimo incendio e da quel momento in poi, la letteratura dice, è stata distrutta una delle più grandi biblioteche d'Italia e d'Europa, la biblioteca di Pico e di Grimani. E questo si continua a leggere ancora ad oggi. Nell'occasione dell'incendio dei magazzini di Sant'Antonio di Castello è andata distrutta la collezione Pico Grimani. Non è così. Lo avevano già dimostrato i due studiosi che vi ho citato all'inizio, cioè Giovanni Mercati per il Latini e Freudenberger per i Greci. Grimani aveva dettato due diversi testamenti. Nel secondo aveva precisato che solo una parte della sua collezione, quella formata dai codici membranacei doveva andare a Venezia, a Sant'Antonio di Castello. I cartacei invece li lasciava al nipote. Quindi almeno una metà della raccolta si è salvata perché era andata al nipote. Ma questa parte della raccolta non sapevamo ancora cosa era accaduto e è stato abbastanza casuale o nell'ambito del progetto di cui vi ho parlato è stato scoperto un inventario del 1572. Un inventario di chi? Della sorella del nipote di Domenico Grimani. Quindi Domenico Grimani lascia i libri in eredità a Marino e noi abbiamo ritrovato un testamento della sorella di Marino. In questo testamento era legato un elenco di libri e percorrendo i 900 titoli ho visto che c'erano molti codici appartenuti a Picco della Mirandola. Questo perché? Perché Marino Grimani nel momento in cui era andato anche egli a Roma aveva deciso di lasciare le casse dei libri che non erano tanto interessanti eccetera alla sorella. È morto e la sorella ha continuato a custodirle a lungo e poco prima di modire ha dettato il testamento. Io mi ritrovo in questa soffitta queste casse di libri che non so se hanno veramente valore, non so se hanno qualcosa. Io i soldi gliel'ho prestati quindi questa è roba mia e questo è l'elenco dei libri. Ebbene in quell'elenco che è pubblicato in questo volume ci sono codici di Picco fondamentali come per esempio il Parigino 6508 dove vediamo la mano di Picco che lavora insieme a Elia del Medico. È uno dei testi fondamentali delle traduzioni di Averroè. Ebbene questo codice si conservava in questa soffitta veneziana e voi direte sì ma il resto è andato distrutto nel famoso incendio del 1687. No perché gli uomini sono avidi, profondamente avidi. E quindi dopo che è morto Domenico Grimani è rimasto il nipote a sorvegliare. Ma dopo la morte di Marino non è rimasto più nessuno della famiglia a sorvegliare e quindi i canonici di Sant'Antonio di Castello hanno cominciato a vendere. Hanno cominciato a vendere a tutti i più grandi collezionisti d'Europa e e quindi i più bei manoscritti appartenuti a Picco di ebraico si trovano nella collezione Fugger ovvero a Monaco di Baviera. Altri un po' più tardi i codici greci hanno cominciato a venderli e li hanno comprati gli ambasciatori russi. Il più antico codice di Picco si trova a Mosca. È un codice del decimo secolo ed era stato realizzato sul monte Athos. E ancora collezionisti francesi, collezionisti spagnoli per la biblioteca dei re di Spagna. E quindi non tutto ma una parte si è salvato. Quando è scoppiato l'incendio era rimasto soltanto un piccolo numero di manoscritti. E in parte anche questi si sono salvati tant'è vero che a Udine per esempio si trovano manoscritti di Picco con ampie tracce di incendio. Comunque è un'avventura questa sotto ogni aspetto. Cerchiamo un'altra avventura adesso perché abbiamo visto che Picco è stato accusato anche di eresia. Poi chi l'ha scagionato è stato Alessandro VI. Si parla sempre male di Alessandro VI. Papa Borgia invece qualche cosa di buono ha fatto. Io non vorrei difenderlo ufficialmente qua in questa scuola della cattedrale, però lo difendiamo. Ecco allora io vorrei chiederle, professor Secchi, chi erano gli oppositori di Picco dalla Mirandola? Perché effettivamente ha avuto parecchie rogne, insomma possiamo chiamarle in questi termini. Chi sono stati i suoi nemici? Si sente? Sì, grazie per questa domanda che ci permette di entrare anche un po' più nel cuore di Picco, l'aspetto un pochino più emotivo. Allora diciamo che si può rispondere in due sensi. Uno diciamo più, se volete, ecclesiologico e politico, cioè chi sono gli avversari di questo grande progetto culturale di cui abbiamo parlato finora, cioè della Pax filosofica fondata sulla Concordia fra Padone e Aristotele. E certamente questa è una storia terribile di reciproca incomprensione fra Picco e Papa Innocenzo VIII. Perché bisogna precisare una cosa. Questo incontro che Picco avrebbe voluto organizzare nell'Epifania del 1487, e il giorno non era casuale, l'Epifania della verità, era una disputatio, cioè le conclusioni, queste 900 conclusioni, non erano assertive, erano al contrario problematiche, cioè erano dei nodi filosofici dai quali partire per vagliare le posizioni favorevoli quelle contrarie e cercare di addivenire possibilmente ad una concordia. Questo negli auspici, ma innanzitutto l'importante era la discussione e la chiarificazione. Di queste 900 conclusioni, 13 appaiono, non direttamente eretiche, perché una condanna formale per eresia Picco non la riceverà, appaiono in odore di eresia. Perché questa formula un pochino così non chiara? Perché ai teologi della commissione nominata dal 1908, che lavorano tra febbraio e marzo dell'87, queste tesi appaiono incomprensibili, soprattutto quelle legate all'ebraico e al sapere della cabala. e allora chiaramente la disputa viene bloccata, tutto l'iter viene sospeso e Picco si arrabbia moltissimo. Questo è il primo fraintendimento, perché la condanna non è di eresia formale, ma è la necessità di un ulteriore approfondimento perché queste tesi non sono chiare. Picco sostiene certo non sono chiare perché voi non capite nulla, perché voi non siete in grado di capire e nell'apologia appunto scrive voi siete cani latrantes, cioè voi siete come dei cani che abbaiano a coloro che non conoscono, allora voi non sapete nulla di quello che io dico e mi dite che sono un eretico. A quel punto Innocenzo VIII si arrabbia ancora di più perché dice ma caro il mio conte io non ti ho ancora condannato per eresia e tu già mi scrivi un'opera contro scritta in 20 giorni e 20 notti appunto l'apologia. Adesso mi arrabbio sul serio e adesso vediamo se facciamo il processo inquisitoriale. E allora io scappo e Picco scappa e appunto va a Parigi dove come diceva presto e torno all'inizio viene aiutato prima addirittura anche da Carlo VIII che aveva grande aschio nei confronti del pontefice e poi Lorenzo come dire fa tutto quello che noi sappiamo cioè minaccia di chiudere i rubinetti della banca medici se Picco non venisse lasciato in pace da appunto da Roma. Quindi Picco si rifugia a Firenze. A quel punto Picco è un uomo spento, un uomo morto, un uomo ferito soprattutto perché l'accusa è di non essere cristiano. Picco questa accusa non riesce proprio a sopportarla. Però continua appunto la disputa attraverso i tentativi di Lorenzo, di Mediare, dell'ambasciatore ed è una disputa che praticamente si chiuderà appunto soltanto un anno prima della morte di Picco con Alessandro VI, con Rodrigo Boggia che era meno interessato alle sottigliezze teologiche che evidentemente non vedeva tutto questo pericolo nell'opera di Picco e quindi lo perdona. Per quanto riguarda i nemici filosofici posso dire proprio due parole. La grande controversia è proprio con Marsilio Ficino che in fondo è il suo maestro. È quello che lo inizia agli studi platonici, è quello che gli fa leggere il suo grande capolavoro, la teologia platonica d'immortalità di Animorum e tuttavia che Picco in modo molto impertinente già nel commento sopra una canzone d'amore di Girolamo Benivieni, un comune amico poeta, lo accusa di non aver capito il simposio di Platone dopo che Ficino ha tradotto e commentato rica per rica l'intero corpus platonicum, semplicemente un anno prima, perché 1484 era uscita un'opera bentennale, praticamente l'opus magno dell'intera traduzione dal greco al latino di tutti i dialoghi platonici. Quindi fra i due c'è questo rapporto di amore e odio perché Ficino riconosce l'estremo valore di Pico, però lo accusa di essere un arrogante. Pico riconosce l'estremo valore di Ficino ma nell'interpretazione più delicata della tradizione platonica i due hanno una posizione inconciliabile perché per Marsilio Ficino Platone è un'autorità divina ed è superiore a Aristotele che è soltanto un logico ed eventualmente un filosofo della natura. Per Pico, che ha conosciuto l'arabo, ecco arriviamo a chiudere il cerchio, che ha conosciuto Averroè, Aristotele è un teologo esattamente come Platone e questo antiaverroismo che invece Ficino palesa in modo molto forte nel quindicesimo libro della teologia platonica, Pico non glielo può perdonare e i due muoiono senza conciliarsi. Peccato. Professoressa Morano, lei ha citato vari interessi per l'ebraico e per la Bibbia. Possiamo vedere Pico come un anticipatore proprio di Erasmo eccetera così ma gli interessi di Pico per la Bibbia rientrano, nascono, cosa succede? Prestissimo, prestissimo, dopo il brutto episodio delle conclusioni Pico si rifugia, trova rifugio a Fiesole e Lorenzo, se Pico ha avuto molti nemici e ha avuto anche un solo grandissimo amico, Lorenzo De Medici, lo invita a scrivere, a leggere e commentare i salmi. Quindi Pico comincia questo commento ai salmi che non porterà a conclusioni, a termine e verrà trovato soltanto frammentario e verrà poi edito tra l'altro di recente, è stato edito da Monsignor Antonino Raspanti. Prima di leggere, mentre legge i salmi, si accosta per la prima volta, forse non per la prima volta, comunque si accosta alla Bibbia. Per liberare, lui dice, da ogni ambiguità la parola, il verbo. Quindi ha un approccio filologico nei confronti della parola trasmessa dal testo biblico e commenta nel 1489 e scrive un'opera che si intitola Eptaplus, che è un commento ai giorni della creazione della Genesi. È un'opera straordinaria secondo me, è un'opera bellissima dove mentre nelle conclusioni abbiamo autori infiniti, dalla scolastica, gli arabi, i matematici, non manca praticamente nessuno che dice, no, io non userò quello che hanno scritto i miei predecessori, perché, come insegna la Bibbia, il campo non va a rato tutto, ma bisogna lasciare un angolino per quelli che verranno più tardi, lo dice lui. E io mi occuperò di questo piccolo angolo, di questo piccolo spazio e qui descrive i sette giorni della creazione, in quest'opera straordinaria che doveva riportarlo in seno alla Chiesa. Non è avvenuto. non è avvenuto perché il Papa si arrabbia ancora di più e a questo punto anche Lorenzo de' Medici si arrabbia e sbotta in una lettera famosa, se costui dicesse il credo, se costui pico dicesse il credo, direbbero che fosse un'eresia. Certo che avevano un certo carattere, diciamolo pure tranquillamente, con tutto il rispetto ovviamente. Lì, professor Secchi, lei chiaramente è stato molto gentile con la curia romana, tenga presente che, insomma, lì erano accuse che potevano anche finire in roghi o qualcosa del genere, ecco. Se lei volesse proprio così ricostruire un momento le controversie di Pico della Mirandola, questi studi infiniti, qui stasera avete citato libri e cose che ovviamente un profano di solito si sente un po' smarrito perché le conclusioni, le traduzioni, si passava da Elia del Medico ad altri studiosi, ad altri conoscenti. Lei, dare un'indicazione per dire, chi vuol cominciare magari ad approfondire un po' gli aspetti di Pico della Mirandola, dove comincia? Cosa deve fare? Dimentichiamoci i tempi del liceo, anche se magari sono stati utilissimi, però io non so, domani mattina voglio cominciare a capire perché questo grandissimo personaggio che anticipa Erasmo da Rortetern, che anticipa il concilio, che anticipa i filologi, che anticipa tutto, a un certo punto vorrei capire come mai non c'è il giusto riconoscimento insomma, è soltanto in parte riconosciuto dai doti oppure dai pedanti oppure... Sì, dunque la prima ragione sta nella difficoltà e chiaramente nella cripticità delle sue opere. quello di Pico rimane un progetto implicito per le vicende biografiche, per il dolore interiore, per la minaccia della condanna di eresia, per il numero abnorme di letture che chiaramente non hanno consentito a Pico stesso, come dire, di procedere ad una assimilazione e ad una esposizione graduale. Certamente come non consigliare di iniziare comunque dall'Orazio de Pace, perché l'Orazio de Pace era appunto il discorso inaugurale a questa famosa disputatio che si sarebbe dovuta svolgere appunto nel giorno dell'Epifania dell'87 e che purtroppo non fu mai pronunciata, quindi si parla di un discorso mai pronunciato, un discorso straordinario per la sua, come dire, il suo carattere assolutamente dirompente, vi dico tanto all'inizio, no? Citando appunto chiaramente l'Asclepius del Corpus Hermeticum, il famoso adagio che già era conosciuto nei secoli medievali, certamente, no? L'uomo è un grande miracolo, è un grande prodigio, poi bisogna vedere come si debba tradurre in modo più, come dire, corretto la parola miraculum, che significa sia, come dire, può significare sia, come dire, un intervento di Dio a violare le leggi di natura, ma anche qualcosa di sorprendente, di inusuale, di unico, dipende dalle interpretazioni. Però ecco, poi che cosa è importante? il fatto che, a sostegno di questa posizione per cui l'uomo è un grande miracolo, magnum miracolum est homo, Pico dice, come dice Abdalla Saraceno, molti si sono interrogati su chi fosse questo strano personaggio, Abdalla Saraceno. Qualcuno ha detto, è uno di coloro che ha collaborato insieme a Maometto, addirittura alla stesura del Corano. Saraceno è un sinonimo di appunto musulmano. C'è anche qualcuno che in realtà ha pensato che Pico l'abbia inventato questo personaggio, proprio per una provocazione intellettuale. Sull'essenza più profonda della natura umana legata a Dio, io non cito appunto l'Antico Testamento, non cito il Vangelo, cito un nome che non esiste. Come dire, io vi sfido a trovare un grande pensatore che non sia degno di essere letto. Questo è il grande coraggio di Pico. Non dobbiamo avere paura della lettura. Quindi io comincerei da questo testo, che è stratificato, difficilissimo, perché si può leggere a infiniti livelli ovviamente. Pico, come dire, mette i riferimenti in modo molto criptico e molto criptato, appositamente criptato, per fare una metafora informatica. sono dei troian, i riferimenti che mette Pico nel suo testo, proprio punti da dove chi sa leggere, chi vuole intendere, capisce cosa sta dicendo, ma sono molto pochi. Questo è un testo innanzitutto folgorante, quindi io comincerei sicuramente da lì. Poi per leggere un testo che aiuta a capire anche la straordinaria vita di Pico, io continuo a dire che la monografia più bella continua a essere quella di Eugenio Karen, Pico della Mirando, la vita e dottrina, anche per la sua poeticità, per la sua grandiosità, per quello che ha fatto Pico, Garen, tra l'altro negli anni Trenta, utilizzando Pico in funzione anti-heideggeriana e quindi in funzione, come dire, antinazista. Questo è tra l'altro molto importante. Cioè parlare di libertà, di dignità dell'uomo, di autocostituzione dell'uomo e negli anni Trenta, come ha fatto Karen, nell'edizione dell'opera di Pico di Karen nel 1942, sotto le bombe, significa qualcosa di davvero importante. Quindi io direi questo testo di Pico, l'Orazio e questa monografia. Io non so se sono riuscito a... È riuscito, soltanto che nessuno riuscirà a trovare quei volumi se non in alto antiquariato, perché uscirono nei classici del pensiero italiano da Vallecchi, che ormai sono praticamente, praticamente, se uno va a chiederli in una libreria, chiamano praticamente... Il volume della vita di Karen è stato ristampato con la prefazione di Cesare Vasoli. La vita, sì. Questo lo so, però le opere di Pico curate da Karen sono introvabili. La professoressa Murano mi chiede di leggere l'inizio della orazione sulla dignità dell'uomo, io la chiamo così, insomma. Dell'Orazio, comunque. Pensiamo, questi, cos'erano vescovi, no? Dotti, i più grandi dotti del tempo, i migliori vescovi della corte di Roma, insomma, della corte pontificia e il Papa doveva essere presente. E lui si sarebbe espresso in questi termini, padri venerabili. Ho letto negli antichi libri degli arabi che il saraceno Abdallah, a chi gli domandasse quale fosse, a suo avviso, lo spettacolo più meraviglioso su questa specie di scena che è il mondo, aveva risposto che non vedeva niente di più meraviglioso dell'uomo. Va bene così? Bellissimo. È bello, no? Merita la lettura. Vuole aggiungere qualcosa? No, allora... Chiudiamo con queste parole di Pico. Io però, prima di cedere la parola a Monsignor Borgonovo, devo darvi un annuncio perché stasera abbiamo parlato di Bibbia, di traduzioni, di tormenti sulle traduzioni, di anticipazioni sulle traduzioni, eccetera. Monsignor Borgonovo ha tradotto nuovamente per la collana metelliana l'Apocalisse, l'Apocalisse che in una situazione completamente nuova, in una forma completamente nuova. Allora, Monsignor Borgonovo non vuole presentare i suoi libri, i suoi sforzi qua alla Scuola della Cattedrale, essendo lui l'anima, il cuore, la mente e il braccio di questa iniziativa. Allora, c'è stato un centro a Brera che si è offerto di, diciamo, di aprire la sua sala per poter presentare questo libro e la presentazione avverrà il 20 giugno alle 18, si entra da via Madonnina e poi si passa da via Formentini, via Formentini al 10, però si entra da via Madonnina e lì presenteremo, io farò da moderatore, quindi vi invito tutti se ci sarete, tra Monsignor Borgonovo che spiegherà proprio il lavoro che ha fatto sull'Apocalisse e Rav Davide Shunach, che penso molti conoscono, il vice rabbino capo di Milano, rabbino capo di Parma, rabbino di Ancona, eccetera, eccetera. E ci sarà un confronto sulle Apocalissi ebraiche, anche perché la tesi di Borgonovo è una sorpresa e io non posso anticiparla. Vi do appuntamento comunque dopo questo, il 20 giugno d'accordo, ma anche il 26 giugno per chiudere la Scuola della Cattedrale di quest'anno con l'opera immensa di Ermete Trismegisto, di questa nuova rivelazione di padre Festugera. Poi vedremo cosa dire anche qui, no, c'è una cosa da aggiungere, visto che siamo con Picco della Mirandola, la diciamo proprio in margine alla serata. Quando dovessero ristampare quest'opera negli anni passati, all'inizio di questo secolo, si volle ristampare la rivelazione di Ermete Trismegisto perché erano quattro volumi e a un certo punto nel fare i controlli si accorsero che il testo greco di Platone e di Aristotele non corrispondeva alle dizioni critiche, quindi tutti si chiesero quale testo avesse usato padre Festugera. Molto semplice, nel tempo di guerra non poteva andare in biblioteca, lo ricordava in memoria. Quindi in questi quattro volumi, poi tutto è stato sistemato dalla professoressa Concetta Luna dalla normale di Pisa che lavora per le Bellettra e sostanzialmente quest'opera è stata spossibile sistemarla ricontrollando i testi critici su testi riportati a memoria da padre Festugera e con un greco perfetto, ovviamente con un latino laddove c'è latino perfetto, ma lui li ricordava a memoria e non poteva andare in biblioteca per poter attingere. Quindi arrivederci al 20 con Monsignor Borgonovo, arrivederci al 26 con padre Festugera ma adesso io chiedo a Monsignor Borgonovo di chiudere la serata come suo solito. Dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io. Questo vale come tiro mancino dell'amico Armando. Sì, se avete proprio tempo da perdere venite a questo incontro, ma in realtà è un piccolo incontro per far conoscere un libro irraggiungibile perché ne sono state stampate solo 250 copie e quindi è già esaurito prima ancora di nascere. Però è un invito nato per amicizia con Paolo Metteli, il quale voleva stampare due commenti di Mario Luzzi al Vangelo di Giovanni e all'Apocalisse e chiedeva una traduzione adeguata. Gli ho detto aspetta qualche mese e poi te la darò io, la traduzione. E' una scommessa di questo genere, tra amici. Tutto qui. E sarebbe bello poter fare un'edizione per tutti, vedremo se la vita sarà lunga, c'è tempo per farlo. Abbiamo qui un altro editore davanti, quindi... E invece per noi la scuola della cattedrale del 26 è un altro argomento volutamente un po' di nicchia, ma molto interessante perché noi parliamo tanto della tradizione ermetica, di ermete trismegisto, di tutto quanto ha significato nell'antichità, nel medioevo e ancora per oggi noi, ma forse non sappiamo di che cosa si tratta. E allora avere una serata dedicata appunto a questo, penso che sia un'occasione molto interessante per approfondire proprio l'ermeneutica. È un'altra derivazione da questo ermetismo. L'ermeneutica perché si tratta di interpretare un libro, un disegno, un'opera d'arte, un pensiero. Interpretare, appunto, ci vuole davvero ermes trismegisto per questo, perché il compito è arduo. Grazie della vostra partecipazione e allora... E poi per quanto riguarda l'anno prossimo siamo ancora in dubbio sull'inizio, per questo non abbiamo sparato il colpo, perché ci manca ancora la conferma di una presenza, però per la prossima volta speriamo di poter concretizzare. Volevo dire a Monsignore semplicemente che 250 copie dell'Apocalisse sono molte, perché i principi a matematica di Newton che hanno cambiato la storia dalla nostra visione dell'universo erano in 150 copie. Quindi bisogna stare molto attenti alle tirature. Le piccole possono fare dei cambiamenti epocali. Grazie. Arrivederci.